Musica Abbiamo deciso di darvi un piccolissimo benvenuto Voi sapete che questa è una settimana dedicata alla scrittura E qui si crea le parole, le parole sono composte da lettere Perciò proprio in onore della scuola elementare I ragazzi della seconda E hanno organizzato un piccolo balletto introduttivo Che parla proprio delle lettere dell'alfabeto Quindi possiamo partire adesso Aspetta un attimo, abbiamo pieno il sipario Musica 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 La cucina del gemmino anche la parola che non so da scuola I elli che vanno la gioia dei bambini, quelle e la lavagna che va a guarder i figli La, 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 la E' l'orologio che corre e mai riposa, qui è la palestra sul coso e capriole. Un acqua aperto, pieno di parole, è l'energinello e se mostrano a porto. Direbbe il terreno, un'uscita in luglio, qui sono le vacanze, ai mondi oppure al mare. E' l'energinello, sai, non pesante da portare. La scuola comincia la perura, prima la fa bello, poi si fa più dura. E' una volta grandi, si ripenserà, ai giochi, agli amici, di questa bella età. La scuola comincia la perura, prima la fa bello, poi si ripenserà, ai giochi, agli amici. Grazie.